Come ottimizziamo i tempi per schemi chiari e veloci? Adesso ve lo faccio vedere. Per prima cosa ci prepariamo tutto il materiale prima perché sennò perdiamo tempo. Seconda cosa, evitiamo di sperimentare troppo e utilizziamo comunque layout, arrangiamenti che abbiamo già consolidato e che ci sono molto comodi. Ultima cosa, risparmiamo i dettagli fantastici per un altro momento, quindi per esempio titoli elaborati.